Eccoci e bentornati sul mio canale ragazzi nuovo video informativo giornaliero vi devo dire una notizia incredibile state vedendo intanto un'immagine di Call of Duty Modern Warfare che abbiamo seguito ieri sera in live e questa mattina vi ho riportato tutte le notizie più importanti in merito al gioco preparatevi perché sabato, domenica e lunedì ci saranno un mare di speciali con tutti i contenuti allora vi devo far vedere una cosa veramente favolosa ragazzi allora andiamo sul sito francese praticamente che mi è stato segnalato da molti di voi geusvideo-live.com che riporta questa notizia Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered riappare in Australia avete capito bene praticamente il sito di classificazione australiano quindi il classico Peggy quello che dà le classificazioni ai giochi ha riammesso praticamente nelle sue liste Call of Duty Modern Warfare 2 perché ragazzi questa cosa sembrerebbe che sia l'arrivo finalmente di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered magari in bonus con il preorder di MV non lo so ragazzi vi faccio vedere le immagini che sono praticamente trapelate da questo sito come potete vedere Call of Duty Modern Warfare 2 è stato classificato il 23 di maggio 2019 mentre il precedente ovviamente era del 2009 10 anni dopo classificazione di un nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 perché questa cosa è in arrivo la Remastered vi faccio vedere anche quest'altro screen sempre praticamente dal sito di classificazione australiano dove praticamente potrete vedere data di classificazione al 23 di maggio il publisher piattaforma di gaming e il numero di classificazione Call of Duty Modern Warfare 2 ragazzi secondo me questo è un grandissimo indizio che qualcosa bolle in pentola qualcosa che Activision Infinite World ancora non ci hanno detto oltre ovviamente a Call of Duty Modern Warfare e in arrivo finalmente la Remastered DM V2 vi farò sapere ragazzi voglio comunque ringraziarvi per la segnalazione di questa notizia che era veramente molto importante e volevo condividerla con tutti voi qui sotto nei commenti fatemi sapere subito che cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video informativo